Vi propongo un esercizio, spostare indietro le lancette dell'orologio. Non di un'ora, come siamo abituati a fare una volta l'anno, ma indietro, indietro e indietro fino ad arrivare al 1944, 80 anni fa. È il 26 settembre, siamo a Bassano del Grappa e i nazi fascisti costringono la popolazione, tra cui gli studenti, ad assistere all'impiccagione di 31 prigionieri catturati durante un rastrellamento. Tra gli studenti c'è anche un'allieva di 16 anni dell'Istituto Magistrale. Il suo nome è Tinan Selmi. In seguito a quell'episodio deciderà di entrare nella Resistenza. Il 29 luglio 1976 diventerà la prima ministra della nostra Repubblica. Il 23 dicembre 1978 firmerà la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la numero 833. Torniamo al 1944, qualche mese dopo, è l'11 dicembre, siamo a Venezia e c'è uno studente universitario di medicina che scappa sui tetti e viene catturato e arrestato per attività antifascista. Resterà in carcere fino alla liberazione. Si chiama Franco Basaglia. Il 13 maggio 1978 verrà approvata la legge che porta il suo nome, la numero 180, con cui si sanciva la chiusura dei manicomi. Cosa centrano Tinan Selmi e Franco Basaglia con la democrazia? Io ai giovani questo io dico, batteteli sempre per la libertà, per la pace. Camminiamo insieme perché l'avvenire appartiene in larga misura ancora a noi. Io sono Fabiana Martini e questo è Prospettiva Democrazia, un podcast dell'Azione Cattolica Italiana sul futuro del nostro vivere assieme. Uno sguardo plurale a una conquista che diamo per scontata, ma che invece ha bisogno della cura di tutte e di tutti per non appassire. Le voci di chi ogni giorno partecipa alla vita della nostra comunità e prova a guardare lontano per trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ci stavamo chiedendo cosa centrassero Tinan Selmi e Franco Basaglia e il loro impegno nel campo della salute con la democrazia. Credo che dietro alla domanda ci sia una questione anagrafica e provo a spiegarmi. Chi a una certa età sa benissimo per averlo vissuto sulla propria pelle che un tempo curarsi era un privilegio per pochi, sostanzialmente per ricchi. Per andare dal medico per ottenere dei farmaci bisognava pagare. Allo stesso modo il manicomio era un posto per poveri, per chi non aveva niente. I ricchi infatti si curavano nelle cliniche private. Poi è arrivata la Costituzione con l'articolo 3 dedicato all'uguaglianza e l'articolo 32 dove si dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ma non è bastato, ci sono voluti altri 30 anni per istituire il Servizio Sanitario Nazionale che si fonda essenzialmente su tre principi. L'universalità, che significa che le prestazioni sanitarie sono estese a tutta la popolazione. L'uguaglianza, che significa che i cittadini e le cittadine devono accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche. L'equità, che significa che a tutti i cittadini e le cittadine deve essere garantita parità di accesso in rapporto uguali bisogni di salute. Su questo Massimo Ciri e Chiara D'Ambros hanno scritto un libro e realizzato un documentario. Se non lo conoscete ve lo consiglio e per invogliarvi vi leggo la quarta di copertina. Ascoltate perché le sorprese non si fermano alla citazione. Uno non ci pensa. Io sono stato curato, curato bene, infatti sono ancora qui e non ho pagato nulla. Allora sono andato a riguardare i documenti che avevo conservato. Tomo Scintigrafia Globale PET, importo 1.081,86 euro e io non ho pagato nulla, ma neanche una lira, perché c'è il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale per me ha speso 40.000 euro, avrebbero potuto essere 100.000 o 500.000, però mi avrebbe curato indipendentemente dai soldi. Che cosa c'è dentro questo valore? È un pezzo di democrazia? Questo si chiede Massimo Cirri, conduttore della trasmissione di Radio 2 Caterpillar, ma anche psicologo, nel libro Quello che serve, un racconto tra malattia, cura e Servizio Sanitario Nazionale, scritto assieme alla giornalista e filmmaker Chiara D'Ambros, è uscito nel 2022 per i tipi di mani editori. Massimo, ci riveli le conclusioni a cui siete arrivati nel libro? È un pezzo di democrazia, davvero? Perché? Possiamo ancora dire che la nostra Costituzione è un'assicurazione sulla vita? Sì, credo di sì Fabiana, credo che alla fine il concetto che più si avvicina a questo meccanismo per cui io sono stato curato e non ho speso nulla, sono stato curato indipendentemente da chi fossi, ma semplicemente perché sono un cittadino, credo che il concetto più vicino sia quello lì, sia quello di democrazia e che cosa sia la democrazia, poi non è facilissimo definirlo, in questo caso una macchina di uguaglianza, una macchina di fratellanza, una macchina che tiene tutti più o meno nello stesso livello di possibilità quando la questione è che hai avuto un infarto e sei finito al pronto soccorso o sei molto malato, hai una malattia di quella lunga, cronica, insomma, e quindi un meccanismo di parità per cui tu vali indipendentemente da quello che hai, semplicemente perché sei. A me viene da chiamare la democrazia, quella domanda io l'avevo fatta all'oncologa che mi aveva curato, la dottoressa Laura Rocati, lei mi aveva detto che non lo sapeva neanche lei perché è una domanda molto articolata perché dietro ci sono molti valori, però la Rocati è anche una donna dell'abrianza, mi aveva detto, Silvi, lei è guarito, torni a fare il suo lavoro se devi di sorno. Certo. Senti, ma le cronache a proposito di medici e di oncologi, eccetera, insomma, le cronache narrano che a un congresso della Simeu, la Simeu è la società italiana di medicina di emergenza e urgenza. Tu abbia detto, confermami se è andata veramente così, se è vero, quando tornate a casa dal lavoro e i vostri figli vi chiedono cosa avete fatto oggi, non dite se avete curato un bambino o un anziano, ma dite ho applicato la Costituzione. Allora, prima confermami se è vero o se è, come dire, una notizia fa essere tendenziosa. Poi immagina che io sia tua figlia, che abbia 10 anni e ti chieda, cosa vuol dire applicare la Costituzione, papà? Cosa mi risponderesti? No, credo di averlo detto, credo di averlo detto forzando un po' un concetto, ma credo che sia vero. Quando nel 1978 si istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, quindi si supera quell'altro meccanismo, quello delle mutue, ti curo per il lavoro che fai, perché curando te, il lavoratore o la tua famiglia, se la mutua era una di quelle buone, tengo insieme il sistema produttivo e si dice ti curo perché sei, perché sei un cittadino, è un'applicazione trent'anni dopo della Costituzione, che dice portarci tutti, essere tutti, tendere il più possibile a un sistema di eguaglianza. E poi questo sistema di eguaglianza io credo che sia anche quello che permette a una società di crescere economicamente, perché andare a lavorare libero dalla paura della malattia, dalla paura del futuro, da quella paura che noi neanche conosciamo, ma che sappiamo è la quotidianità della vita delle persone malate in buona parte del paese del mondo, che si chiama l'impoverimento per malattia. Ho una malattia, riesco a curarmi e quindi mi salvo la vita, riesco a rimanere in vita, però per far questo divento povero, insomma, che poi è un meccanismo che rende tutto complicato, rende più difficile guarire. A noi questo è risparmiato, quindi direi alla figlia di 10 anni e sì, qualcuno che di lavoro tiene la società in salute, tiene le persone in salute, applica la Costituzione, perché la Costituzione dice che siamo uguali, uguali davanti alla legge, uguali il più possibile, uguali davanti al futuro e il futuro sappiamo il fatto anche di fragilità, di malattia, di sconfinamenti, insomma, e tenere questo meccanismo che ci tiene il più possibile lontani dalla morte, io credo che alla fine sia veramente un meccanismo di ugualianza e di democrazia. Grazie, quindi difendere la democrazia significa anche difendere il servizio sanitario nazionale e viceversa. Assolutamente, assolutamente, guarda, la metterei di più su una questione di soldi. Ogni soldo sottratto dall'evasione fiscale o da investimenti, invece di andare alla sanità pubblica, vanno anche alle forme sussidiarie del welfare, io credo che alla fine, permettimi questa radicalità, siano soldi sottrati alla democrazia. Massimo Cirri parla di macchina dell'uguaglianza. Che immagine potente, non trovate? Parla di un sistema, la nostra democrazia, dove ognuna e ognuno di noi conta perché è e non perché ha. O almeno così dovrebbe essere. A questo proposito, Franco Basaglia, di cui con gratitudine ricordiamo quest'anno il centenario della nascita, amava spesso ricordare un proverbio calabrese che dice, chi non ha, non è. Questo per dire che la nostra società, nonostante gli impegni presi con la Costituzione, tendeva a garantire solo i già garantiti, a curare i sani e a respingere i malati, potremmo dire parafrasando Don Milani. Da qui la sua battaglia, che più che una nuova proposta psichiatrica fu una vera e propria denuncia civile, per ridare dignità umana alle tante persone abbandonate negli ospedali psichiatrici, fino a quel momento considerate non persone, pericolosità da isolare o mera esistenza animalesca da relegare e dimenticare, come scrisse Claudio Magris qualche anno fa. Cittadine e cittadini privati di ogni diritto, che prima di essere matti avevano la colpa di essere poveri, esclusi senza cittadinanza e senza adeguata difesa. Uomini, donne e bambini ridotti a numeri di matricola, a scarti rinchiusi in luoghi che erano diventati dei veri e propri depositi di spazzatura. Mentre in realtà erano solo cittadine e cittadini più sfortunati e bisognosi di aiuto, che non avevano avuto le stesse possibilità. Ecco, se c'è un luogo dove davvero non si fa preferenza di persone, dove in caso di necessità ci portano tutti prima ancora di sapere come ci chiamiamo, quello è il pronto soccorso. Ne abbiamo parlato con chi questo tempio della democrazia lo conosce bene, il dottor Mario Calci, primario del pronto soccorso di Udine fino a dicembre dello scorso anno. Dottor Calci, cosa c'entra secondo lei la salute con la democrazia? Io che con la democrazia la salute c'entra forse con la nostra visione della democrazia perché sappiamo che nel mondo ci sono democrazie di stile liberale come negli Stati Uniti dove la salute di tutti i cittadini non è al centro dell'interesse dello Stato, lo è soltanto se vengono fatte delle leggi ad hoc e sappiamo che ci sono regimi totalitari come quelli di ispirazione marxista, Lexus, Cuba che hanno comunque garantito dei sistemi sanitari di discreto livello, questo storicamente è noto a tutti. Quindi io direi che noi dobbiamo fare riferimento al modello di democrazia italiano che è in qualche modo basato sulla nostra Costituzione, quindi sugli articoli della Costituzione che parlano di salute e nella Costituzione si dice che la salute è un bene inalienabile della singola persona che quindi è libero di decidere di come gestirla ma non è solo un bene della persona ma è anche un interesse dell'intera comunità e soprattutto è un bene che va garantito a tutti, quindi introducendo un concetto di solidarietà che mi sembra fondamentale nel sviluppo della nostra società e del nostro modello di sistema sanitario, modello che si è sviluppato ed evoluto lentamente negli anni per cui non è che siamo arrivati da quello che ha scritto la Costituzione immediatamente realizzarlo, però nel tempo le linee sono state quelle. Quindi direi che la salute, la garanzia della salute di ogni cittadino è proprio un'espressione della democrazia così come è declinata dalla nostra Costituzione. Indipendentemente dalle dimensioni del nostro portafoglio, dal luogo in cui abitiamo, dal colore della nostra pelle. Questo è un punto fondamentale, quindi il fatto di creare un sistema di solidarietà per cui chi paga, paga per tutti, anche per chi non è in grado di pagare le proprie cure sanitarie, è un po' il punto fondamentale. Tutti abbiamo diritto alla salute ma ne hanno diritto anche chi non è cittadino italiano, e questo è interessante, in pronto soccorso se si presenta uno straniero che non ha nessun documento io sono obbligato a curarlo, non posso dirgli tu non hai diritto alla salute perché questo principio appunto va anche oltre la nostra propria cittadinanza e questo secondo me è un principio importante. Il principio di solidarietà si esplica nel fatto che pagare le tasse vuol dire partecipare a questo sistema garantendo a tutti il diritto alla salute. A proposito di pronto soccorso, una realtà che lei conosce bene, cosa significa lavorare nell'emergenza e cosa avete imparato durante l'esperienza pandemica che vi ha messo a dura prova? Il pronto soccorso per me è stata una scelta cosciente di un luogo dove i medico, gli infermieri, l'osso, insomma gli operatori sanitari garantiscono a chiunque si presenti tutte le cure necessarie, cure che spesso il cittadino non riesce ad avere quando il sistema va in affanno e quindi la lista d'attesa c'è lunga e quindi i percorsi non sono organizzati bene, quindi spesso noi troviamo il paziente con la patologia acuta grave ma spesso troviamo anche il paziente che ha già cercato delle risposte che non è riuscito ad averle. In pronto soccorso il tentativo è quello di dare delle risposte immediate con delle capacità operative che sono particolari di velocità e di efficienza. Tutto questo da un lato è l'aspetto positivo del pronto soccorso, dall'altro il pronto soccorso punto trovandosi a essere il punto di arrivo di tutti i bisogni è un po' il luogo che spesso va in crisi, lo si legge tutti i giorni sui giornali, pronto soccorso a folato, difficoltà a ricoverare, difficoltà ore di attesa. Perché? Perché di fatto chi non ha una risposta viene in pronto soccorso, il pronto soccorso ha le porte per definizione sempre aperte in entrata, spesso se le trova chiuse in uscita quando i departi per esempio non sono in grado di ricoverare. Nel Covid questa cosa è stata ancora più marcata per cui noi ci siamo trovati ad accogliere un numero notevole di pazienti e senza chiaramente avere invece un aumento del numero di personale perché di fatto il personale era già impegnato negli altri departi per cui c'era un'impossibilità anche perché sappiamo che è coinciso un po' con la crisi delle professioni e della programmazione del numero di medici e di infermieri. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo accolto i pazienti e li abbiamo gestiti come potevamo vivendo però un po' il dramma di non riuscire a garantire a queste persone le cure sanitarie, l'assistenza ma anche poi il dramma del problema della vicinanza dei parenti. Sappiamo tutti quanto era difficile all'inizio capire come gestire gli ingressi delle persone, quanta paura c'era e quanta difficoltà proprio ad organizzare. Quindi diciamo per noi è stata un'esperienza attica dal punto di vista dell'impatto, importante dal punto di vista della risposta che abbiamo dato, direi che tutti gli operatori ma non soltanto i pronto soccorso, io ho visto anche negli altri departi ma anche a livello direzionale insomma delle prese di responsabilità fino a livello nazionale, secondo me il sistema sanitario ha dato una risposta efficiente per quello che poteva, ha cercato di creare le situazioni per rispondere al meglio, è anche vero che il nostro sistema sanitario in qualche modo si è dimostrato in difficoltà nel far fronte a un'emergenza di questo tipo e questo perché già lavorava a un livello di saturazione delle proprie capacità operative, questo secondo me è un po' l'insegnamento, noi dobbiamo pensare che il nostro sistema deve essere potenziato perché non può lavorare sempre al limite delle sue capacità e questo lo si capisce adesso che chiaramente si sono accumulate le liste di attesa sia degli interventi chirurgici, per gli oncologici sia delle semplici visite di ambulatorio. Come possiamo noi cittadini e cittadini custodire questo patrimonio e dare quindi un futuro alla democrazia? Io credo che il cittadino abbia due o più livelli, ma insomma io ne immagino due livelli di azione, uno è quello di preservare il sistema sanitario lottando perché venga finanziato in maniera adeguata. Noi abbiamo in questi anni, questi ultimi 20-30 anni, abbiamo avuto una progressiva elusione delle capacità di risposta del sistema sanitario in termini economici, quindi se noi vediamo il rapporto tra PIL e il finanziamento del sistema sanitario sappiamo che l'Italia è sotto la media europea, sotto la Francia, sotto la Germania, molto sotto per esempio la spesa che c'è negli Stati Uniti, con l'efficienza invece molto maggiore, per cui possiamo essere orgoglioni nel complesso del nostro sistema che garantisce a tutta la popolazione, anche le persone indigenti, cure che in altri paesi veramente non ci sono, ma anche in altri paesi occidentali, penso per esempio alla dialisi che viene garantita a tutti, ma anche l'intervento per un problema oncologico, al netto del fatto che spesso ci sono liste d'attesa lunghe per arrivare alla visita, ma nel complesso noi dobbiamo essere orgogliosi di questo sistema, ma dobbiamo lottare perché il suo finanziamento globale venga mantenuto e anzi elevato. Questo è un livello politico diciamo che si esplica nel partito in cui si vota, nell'azione di lobby verso i partiti e verso le strutture che governano il sistema. L'altra azione è quella a livello locale e lì a mio avviso il discorso è un po' complesso, è complesso perché partecipare attivamente all'organizzazione del sistema sanitario vuol dire avere una chiara complessità, una complessità che è legata da un lato alle variazioni di quello che è la scienza medica, alla variazione dell'epidemiologia della popolazione, per cui abbiamo una popolazione sempre più anziana, proprio grazie però alle terapie e alle conoscenze che si sono sviluppate in questi anni, con sempre più bisogni e per conoscere questi problemi dobbiamo avere un'umiltà di studiarli e di approfondire quelle che sono le dinamiche che non sono assolutamente facili. Tanto per dire una cosa molto semplice, abbiamo tutti in mente che la sanità è legata all'ospedale, quindi la visione ospedalocentrica e è legata all'attività del medico. Oggigiorno non può essere più così, la sanità deve essere legata molto di più al territorio e deve dare spazio a tanti figure professionali, in primis l'infermiere ma anche l'isoterapista, l'OS e altre figure che hanno ognuna di loro la sua specificità che devono poter esercitare la propria autonomia in modo da essere funzionali al sistema. Su questo io credo che sia necessario che le comunità prendano coscienza di questo fatto e che elaborino delle loro riflessioni in modo da poter spingere anche appunto i decisori politici ma anche i tecnici a fare le scelte più appropriate sul territorio. Noi intendiamo la democrazia anche come responsabilità nostra, quindi democrazia non è solo scegliere poter votare ma anche poter essere responsabili del funzionamento delle cose. Questo discorso della presenza del cittadino nel territorio, se riusciremo a mettere in atto quei modelli che a livello nazionale sono in qualche modo già stati delineati, quindi di presenza capillare del territorio nelle comunità, in quei punti veramente l'interazione fra struttura sanitaria e associazione del volontariato cittadini potrebbe essere funzionale a garantire una copertura sanitaria e sociale più completa e più pervasiva e partecipata. Quindi mi sembrava bello sottolineare questa cosa. Insomma, la salute sembra essere in affanno come la nostra democrazia. Lo aveva detto il presidente Mattarella nel messaggio di fine anno parlando delle difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti, con liste d'attesa per visite ed esami in tempi inaccettabilmente lunghi. Lo hanno denunciato recentemente anche 14 scienziati e scienziate in una lettera aperta indirizzata alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in cui sottolineano che l'investimento destinato alla salute nell'ultima legge di bilancio è soltanto di 131 miliardi, il 6,2% del PIL, meno di 20 anni fa, contro i 423 miliardi della Germania e il 271 della Francia, che arrivano all'8%. I firmatari ricordano che dal 1978, data della sua fondazione, al 2019 il Servizio Sanitario Nazionale in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell'aspettativa di vita tra i paesi ad alto reddito. Siamo passati da 73,8 a 83,6 anni. Ora però è in crisi e rischia di non riuscire a garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Tra 25 anni, quasi due italiani su 5 avranno più di 65 anni. Molti saranno affetti da almeno una patologia cronica e il sistema non sarà in grado di assisterli. Bisogna correre ai ripari, dicono gli esperti, anche perché un sistema sanitario nazionale che funziona non solo tutela la salute, ma contribuisce alla coesione sociale. Lo sa bene Maria Vanto, 67 anni, calabrese, pensionata, che ha lavorato per circa 40 anni come assistente sociale nel Servizio Sanitario Triestino e ora è attivista nel Comitato di Partecipazione per i Consultori Familiari e nel Coordinamento per la Difesa della Salute Pubblica. Io sono in pensione dal 1 maggio 2023 ed è una data che ho scelto io, il 1 maggio, proprio il giorno della festa del lavoro, perché grazie al lavoro e quindi al lavoro così come è stato inteso dalla Costituzione in poi, io poi ho potuto andare in pensione, perché il nostro è un sistema di solidarietà. Il 1 maggio del 2023 è iniziata questa battaglia e il primo gesto è stato uscire dal silenzio, perché l'azienda sanitaria stava riorganizzando tutti i servizi territoriali, togliendo il contatto con la cittadinanza, di fatto diretto nel suo contesto di vita e quindi il 1 maggio è partito con un volantino fatto all'interno dell'ospicio IGL, io sono anche nell'ospicio IGL, per informare chi era il corteo e la cittadinanza che come sempre ai bordi del corteo, che stava accadendo questo. E questo secondo me è il primo gesto di democrazia, perché le cose si devono sapere soprattutto quando si toccano dei beni così fondamentali come i sistemi che tutelano la salute, perché l'articolo 32 dice che la Repubblica attraverso le sue articolazioni tutela la salute. Quindi da lì devo dire che è partita immediatamente un'adesione spontanea, all'inizio molte donne, poi donne e uomini e da lì è partita tutta la protesta. Perché l'abbiamo fatto e perché continuiamo? L'abbiamo fatto certamente per contrastare questa chiusura e soprattutto per informare e coinvolgere la cittadinanza perché si interessi a questi beni che sono a rischio. Il sistema di salute che abbiamo è un sistema che proprio nasce dalla Costituzione, dalla democrazia. Infatti c'è una parte dell'istituzione, del Servizio Sanitario Nazionale che a volte o non si conosce o non si mette in luce, che tra i principi proprio sottolineava la partecipazione dei cittadini al sistema, quindi al Servizio Sanitario Nazionale. C'erano anche nelle leggi nazionali e regionali, ad esempio anche nei consultori, c'è un articolo della legge regionale come in altre regioni che prevede e articola la partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla gestione dei servizi. Questa è l'essenza della democrazia. Mentre purtroppo negli anni si è forse inteso che il Servizio Sanitario è di proprietà delle regioni o addirittura dei direttori generali come se fossero aziende private, ma non è così, ci appartiene il nostro e quindi dobbiamo entrare nel merito. Io penso che la democrazia si basa sulla partecipazione e sul coinvolgimento proprio dei cittadini, perché la Repubblica è nata da questo, non è nata da un atto diciamo dall'alto, né di un regnante né di un unico uomo al potere. È nato proprio dal basso, perché i cittadini l'hanno scelta. Quindi questo imprinting, a mio parere, va rimesso in gioco. Forse per tanti anni ci siamo un po' distratti, abbiamo un po' delegato. Io credo che la delega deve essere sempre una delega partecipata e a partire dall'andare a votare, perché è quello che poi condiziona, ma non basta votare, poi bisogna stare addosso, nel senso non bisogna dare una delega in bianco. Noi dobbiamo sempre far sentire la nostra voce. Quindi quello che purtroppo le istituzioni, sia comunali, regionali, eccetera, hanno visto come un fastidio, una seccatura, invece è stato, come dire, un tentativo di entrare nel gioco, di partecipare, di mischiarsi. E secondo me la cosa importante di questo movimento che è nato sui consultori è perché ci sono dentro tutta l'età intergenerazionale, molti giovani, molte giovani e questo credo sia una cosa molto rilevante, ecco, soprattutto in questo periodo dove purtroppo magari alcuni giovani non si avvicinano. È vero, bisogna immischiarsi, protestare perché non è una cosa vietata, non è garantita dalla Costituzione manifestare, esprimere il proprio dissenso, anzi è questo appunto il motore principale della democrazia, perché se no, appunto, diciamo, si avvicina molto al regime, se no. Avete sentito? Secondo Maria non basta votare, bisogna stare addosso, immischiarsi, protestare. Sulla stessa linea la giornalista Barbara Scaramucci, una vita in Rai, è stata la prima donna a ricoprire l'incarico di direttrice giornalistica, ora presidente onoraria dell'Associazione dell'articolo 21. Avere un servizio sanitario per tutti, che garantisce un livello di prestazione sanitaria adeguata per ogni tipo di cittadino, dal più povero al più ricco, è di per sé, senza bisogno di citare l'articolo della Costituzione italiana che lo prevede, una forma avanzata di democrazia e di coesione sociale. Perché avere un riferimento comune, a prescindere dal tuo reddito, dal tipo di lavoro che fai, quindi dal tuo stipendio o anche dal tuo patrimonio generale, che dovrebbe dare le stesse garanzie a tutti, è veramente un'applicazione, direi, straordinaria della democrazia e anche, sì, della coesione sociale, intetendo dire che tutti ci dobbiamo sentire un po' uguali in questo senso. E questo era in realtà veramente ragazzo della legge studiata essenzialmente da Tina Anselmi nel lontano 77-78, poi fu guarata nel 79. Purtroppo tutto questo progressivamente si è andato impoverendo in maniera spaventosa e oggi siamo ad un servizio sanitario nazionale che non garantisce, non solo non garantisce più gli stessi diritti di accesso, ma addirittura non garantisce alcuni diritti principali, perché se tu hai una diagnosi di tumore e devi fare una TAC o una PET e ti viene risposto che la devi fare fra 7 e 8 mesi, beh in quel momento viene lì sul tuo diritto alla salute, in modo plateale, evidente, non c'è bisogno più di spiegarlo a nessuno. Poi c'è una sproporzione è una differenza non prevista né dalla legge né dalla Costituzione fra una legge o dall'altra. Quindi questa forma di democrazia che realmente era il servizio sanitario nazionale oggi purtroppo non lo è più. E noi che cosa possiamo fare come cittadine e cittadini per difenderlo? Prima di tutto ribellarci, disobbedire, come diceva Don Milà, protestare, andare in piazza, di più, presidiare i luoghi della sanità, dare una mano alle categorie che davvero sono in sofferenza e fra queste categorie in sofferenza ci sono molto, molto spesso prima di tutti i sanitari, gran parte dei medici, quasi tutti gli infermieri e gli operatori sociosanitari. Anche Barbara ci ricorda con determinazione i rischi che corre il nostro sistema sanitario e di conseguenza la nostra democrazia e ci invita a non rassegnarci, ad andare in piazza a protestare. Del resto, se ci seguite dall'inizio, ricorderete che protestare era stata anche la parola chiave che ci aveva offerto Giorgio, il più giovane degli intervistati della prima puntata. Sui rischi poi e concorde pure il nostro esperto, il professor Michieri. Ascoltiamo la sua pillola di diritto costituzionale. La Costituzione italiana è stata una delle prime a riconoscere i diritti sociali come diritti fondamentali della persona e a farlo in modo ampio e articolato, tra questi il diritto alla salute. Ai sensi dell'articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. La salute è tutelata dunque come bene in sé, interesse della collettività e come diritto soggettivo dell'individuo. Da una parte infatti l'ordinamento protegge il benessere e l'equilibrio psicofisico dell'essere umano da qualsiasi forma di condizionamento o comportamento lesivo, anche per ciò che riguarda la scelta di sottoporsi o di non sottoporsi a taluni trattamenti sanitari. D'altra parte, il diritto alla salute si manifesta come pretesa di ciascuno a ottenere le prestazioni sanitarie che, di volta in volta, sono necessarie per la tutela della propria salute. Pretesa che, per i soggetti indigenti, è diritto alla gratuità delle prestazioni. La tutela della salute, intesa nella sua dimensione collettiva, può comportare l'intervento della Repubblica per imporre obblighi e divieti che possono comprimere altri diritti e libertà costituzionalmente tutelati. Si pensi ai trattamenti sanitari obbligatori oppure agli interventi per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19. Il contenuto del diritto alla salute si è progressivamente ampliato da un'interpretazione restrittiva che l'aveva confinato alla dimensione della salute pubblica o alla sola assistenza sanitaria in caso di malattia dei lavoratori. Il diritto alla salute si è imposto come diritto soggettivo, non confinato alla dimensione fisica ma anche psichica della persona e integrato in un sistema socio-sanitario. Dalla lettera della Costituzione, come detto, non emerge la garanzia di prestazioni sanitarie pubbliche e gratuite per tutti, fatto salvo per gli indigenti. D'altra parte, il concetto di indigenza è stato nel tempo relativizzato e poi superato con la universalizzazione delle prestazioni mediante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con la legge 833 del 1978. Il servizio sanitario, ispirandosi a principi della globalità delle prestazioni, dell'universalità dei destinatari, dell'uguaglianza di trattamento, ha introdotto un sistema che garantisce prestazioni sanitarie e cure pagate in prevalenza con denaro pubblico. Questa impostazione, già a partire dagli anni 90, è stata bilanciata con l'esigenza sempre più impellente di contenimento della spesa pubblica, riducendo gradualmente la gratuità delle cure ed elevando la compartecipazione del beneficiario alla spesa pubblica. In tempi recenti, nonostante gli investimenti a seguito della pandemia, il servizio sanitario sta vivendo un momento di trasformazione e crisi. I divari territoriali si sono accentuati, la ripartizione delle risorse tra strutture pubbliche e convenzionate, talvolta a seguito logiche di mercato, le erogazioni di alcune prestazioni come le visite specialistiche e la diagnostica prevede lunghe attese che inducono i pazienti a richiedere prestazioni private. Il sistema formativo del personale non è calibrato rispetto alle esigenze e si potrebbe continuare. Tale criticità, oltre a mettere a repentaglio la gratuità del sistema, rischiano di fargli perdere il suo carattere universalistico e di non garantire i livelli essenziali di assistenza. Rischiano quindi di comprimere irrimediabilmente il diritto alla salute. E tu, sei disposto a darti da fare per difendere il diritto alla salute? Sei consapevole che pagare le tasse significa anche difendere questo pezzo di democrazia e in particolare chi fa più fatiche ha meno possibilità? Volevo ricordarti che se ti piace questo podcast puoi aiutarci a diffonderlo condividendolo con i tuoi amici e le tue amiche, ma anche attivando la campanella per seguire il podcast lasciando 5 stelle di valutazione. Ultima cosa e poi continuiamo. Abbiamo pensato di attivare un indirizzo email per confrontarci insieme sui contenuti del podcast. Se vuoi mandarci un commento o condividi una riflessione puoi scrivere a prospettivademocrazia.it. Grazie. Avete ascoltato Prospettiva Democrazia, un podcast dell'Azione Cattolica Italiana scritto e condotto da Fabiana Martini. La cura editoriale è a cura del Centro Studi dell'Azione Cattolica. La sigla, la supervisione del suono e della voce sono di Senapo e Production. È una produzione della Presidenza Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Le fonti sono indicate nella sinossi. Grazie a tutti.